Massimiliano Pellizzari, oggi un incontro col CDA per approvare il bilancio sulla Fiera. Quali sono stati i punti emergenti? Innanzitutto Padova Fiera S.p.A. ci ha presentato, quindi ha presentato ai soci pubblici, un bilancio in perdita di oltre 3 milioni di euro e un fatturato attorno ai 7 milioni e mezzo, quindi ci sono delle cifre che veramente preoccupano. Il nostro è stato un voto contrario perché i numeri parlano da soli e quindi abbiamo voluto rimarcare la nostra assoluta volontà ad un cambio di passo, ad una virata e abbiamo anche analizzato i bilanci degli ultimi 10 anni e dobbiamo evidenziare e dobbiamo far emergere con forza una continua e costante perdita di fatturato. Dobbiamo in tempi rapidissimi mettere mano e cercare di rilanciare la Fiera che è un patrimonio per tutto il territorio e per la città. Cosa è stato deciso dai vertici? Dai vertici francamente è stato deciso poco perché non ci hanno prodotto un piano industriale e effettivamente poi abbiamo espresso un voto contrario anche per quanto riguarda il posticipo di ogni decisione a ripianare questa perdita. Quindi oggi noi non sappiamo che cosa si farà con questa perdita di 3 milioni di euro. Noi volevamo ovviamente chiarezza, lo diciamo da due anni, per rilanciare la Fiera bisogna investire, bisogna immettere nuova liquidità. Già l'anno scorso c'è stata una diminuzione del capitale sociale per ripianare le perdite da 8 milioni e siamo passati a 5 milioni di euro, quindi una perdita di 3 milioni nei due anni precedenti. Quest'anno un'altra perdita in un solo anno di 3 milioni di euro. Siamo arrivati a 2, cioè la Fiera si sta dissanguando. Dobbiamo assolutamente far sì che vengano messe risorse. Voglio ricordare che ovviamente, anche se credo che sia superfluo, noi siamo soci di minoranza, siamo presenti con un 20%, quindi ovviamente non siamo noi che dobbiamo assumere le decisioni.